La manifestazione di stamane è organizzata da tutto il settore dell'ICT, quindi Information and Communication Technology, per manifestare contro la pubblica amministrazione per la quale noi offriamo i nostri servizi, che è in difetto dei pagamenti. Questo ha comportato per ora la messa in cassa integrazione di diverse centinaia di colleghi appartenenti, sia al CSI Piemonte, il Consortio per il Sistema Informativo Pubblico, attraverso cui regione, province e comuni sviluppano i servizi, come il CUP per la sanità, tutti i sistemi informativi dei comuni per i cittadini e per la pubblica amministrazione. Ecco Luca, riesci a dirci proprio le cifre, dato che sono direi molto rappresentative? Certo. Noi come CSI Piemonte abbiamo circa 100 colleghi in cassa integrazione ad oggi. Questo si ripercuote, cioè la mancanza dei pagamenti dei nostri clienti e proprietari nei nostri confronti, si ripercuote dal CSI Piemonte a tutte le aziende dall'indotto, comportando circa 450 colleghi di altre aziende in cassa integrazione in questo periodo. Noi siamo l'RSU del CSI e sono tre anni che siamo in lotta per chiedere agli enti consorziati per cui noi lavoriamo, che ci dicano, a fronte del calo di risorse degli enti locali, che ci dicano esattamente che cosa l'informatica pubblica deve fare. Invece gli enti non lo decidono e ci stanno sostanzialmente togliendo l'ossigeno. Oggi vogliamo chiedere a tutta la Giunta di decidere sul nostro futuro. Anche dopo le elezioni siamo disposti a aspettare qualche giorno, ma non di più, perché non ce la facciamo più. È importante aggiungere un'altra cosa. Questo settore non sta chiedendo soldi per sopravvivere. Questo settore è un settore importante per uscire dalla crisi. Noi, come Information and Communication Technology, siamo in grado di fare risparmiare la pubblica amministrazione. Quindi non chiediamo soldi. Chiediamo che la pubblica amministrazione abbia una politica chiara e una visione del futuro, come è stato nel passato ed oggi non c'è più.